Sono entrato in Ferrania prima con le imprese, io avevo intenzione di viaggiare e stavo facendo un apprendistato come saldatore per poter poi girare eventualmente il mondo con questa professione. Sono invece poi a seguito di un incidente stradale e a una sopraggiunta invalidità stato in qualche maniera costretto a avvicendarmi a mio padre che aveva fatto 42 anni sempre in Ferrania e in qualche maniera ho preso il posto in Ferrania nel 1984 e ci sono rimasto fino al 2007, ai primi mesi del 2007. La mia esperienza con le imprese è stata in quel di Ferrania, proprio riguardo la manutenzione, lo smantellamento di impianti magari obsoleti e comunque tutta una serie di attività che non venivano più svolte da quel sistema autarchico che era anni precedenti dai lavoratori proprio della Ferrania. Lavorare sotto le imprese in Ferrania non era diverso da lavorare in qualsiasi altro stabilimento, le paghe erano quelle che stabiliva dall'impresa e quasi sempre i lavori non erano dei più puliti, tra virgolette, erano sempre lavori piuttosto sporchi a contatto con sostanze chimiche che comunque ne uscivano, ne provenivano da questi impianti che poi erano tubazioni obsolete che correvano lungo tutti i sotterranii dello stabilimento perché Ferrania oltre a una parte emersa aveva anche tutto un sottosuolo fatto di cunicoli, di gallerie non indifferente, proprio penso un'estensione di chilometri e chilometri ecco in tutto il suo sviluppo. Comunque sia poi la mia assunzione effettiva in Ferrania nel 1984 è stato un cambiamento enorme sotto quel punto di vista lì perché mi sono ritrovato a fare innanzitutto lavori leggeri e compatibili con quella invalidità che ho detto prima, perciò sono stato collocato in un posto a misura, non solo mia ma anche di legge per certe problematiche, un lavoro pulito perché anche lì questo fatto che sarà sicuramente stato menzionato più volte dalla Cappa Bianca più o meno l'avevamo tutti, sono stato inquadrato in un reparto di controllo della qualità, delle stese dove veniva controllata la qualità dei due reparti principali che erano H5 e H6, uno si occupava del colore e l'altro si occupava invece del radiografico, i miei primi anni sono stati in base anche ai titoli di studio che non avevo, io ho una licenza media inferiore e lavori molto semplici, lavori di preparazione, di prove, provini e provette da avviare poi ai controlli più raffinati, diciamo di sensitometria, di tutta un'altra serie di controlli, la cosa interessante, il mio primo impatto è stato piuttosto un po' strano perché nel senso che sì conoscevo queste sale, questi corridoi bui dove logicamente per i materiali fotosensibili che si facevano era necessario queste condizioni di luce controllata che erano appunto luce rossa, luce verde e in alcune condizioni anche buio totale solo con piccole spie di orientamento. La mia prima giornata è stata che quello che poi è diventato il mio primo capo mi ha detto di, rivolgendosi a un altro operaio che c'era già, vai che ti fa vedere, ecco questo mi ha fatto sorridere per la cosa perché farmi vedere al buio è una cosa che, però poi era solo questione di affinare un po' altri sensi, il tatto, l'udito, tutte queste cose qui dove la mortificazione della vista non permetteva. Sono stati anni, questi primi 15 anni che ho fatto al controllo qualità delle stese non sono stati molto entusiasmanti sotto il punto di vista della professionalità, della crescita, anche se all'epoca anche senza un diploma si poteva progredire, fare piccole carriere, arrivare a livelli impiegatizi o comunque, ma siccome nel frattempo anche subito dopo in pratica la mia assunzione ho avuto anche famiglia, ho avuto prima una figlia, poi qualche anno dopo subito un'altra, tra il lavoro un po' alienante che era in queste condizioni di luce e anche un po' di stupidità del lavoro perché era molto semplice, bisognava sempre farlo con cura, ci mancherebbe perché era tutto sempre basato su cose molto fini, molto delicate che non si poteva, seppur nella semplicità prendere la leggera, facevo i turni, i tre turni, avevo le normali problematiche che si può avere quando ha dei figli piccoli a casa, che si dorme poco, non avevo nemmeno tutta questa concentrazione a voler cercare di migliorarmi nel mio lavoro, lavoro, anche perché ero più che soddisfatto del mio stipendio che mi permetteva di far campare bene la mia famiglia e anche dedicarmi a altre cose che mi stimolavano di più come mia esperienza, come mia crescita, come mia formazione personale umana e a questo proposito ricordo infatti che il primo stipendio che ho preso era un milione tondo tondo di lire nel 1984 che confrontandolo con quello di buonanima di mio papà, che invece aveva sempre fatto il normalista, sempre da operaio, era leggermente superiore, lui prendeva 990 mila lire, 998 e questo era stato un motivo anche un po' di scherno tra di noi, di dire guarda lì sei appena stato assunto, hai già preso più di me, ecco, questo è un episodio che ricordo. Al controllo qualità dell'estesa c'era una parte di salette a luce controllata dove giungevano i campioni dai due reparti sottostanti, in pratica dal grande formato che si stava stendendo in quel momento, ogni inizio di questo asse e ogni fine veniva prelevato un campione, veniva spedito tramite post pneumatica, che poi era quel sistema un po' strano di di aria compressa dentro i tubi con dei bussolotti che faceva viaggiare questi campioni attraverso i due reparti, si dialogava così, ecco nello scambio del materiale, portava questi campioni dove venivano a loro volta fatti in pezzi più piccoli per poter fare altri provini, da avviare ad altro genere di controlli dove in parte le avvenivano in queste sale, in altre venivano sviluppati e passavano poi alla parte fuori dove c'erano gli ispettori della qualità che facevano altro genere di controlli visivi a luce bianca ovviamente, oppure sensitometrici con le macchine e i macchinari predisposti a questo genere di esami, faceva dei lavori di taglierina al buio, sia in striscioline che in lastre, perché le striscioline erano per i materiali riconducibili al negativo, mentre invece le lastre quelle riconducibili al materiale radiografico, per questo punto di vista non è stato granché, perché poi era sempre tutto lì, tutto ruotava intorno a queste manipolazioni, sempre uguale, diverso è stato il discorso dei 10 anni seguenti dove sono stato trasferito al controllo qualità della radio, del medicale, dove ero invece addetto all'ispezione, facevo in pratica all'ispettore del materiale che veniva confezionato per poi essere avviato sui mercati e lì era più entusiasmante perché c'era un lavoro di ricerca, di ispezione, di contenimento degli scarti, io nella mia famiglia ho avuto mio nonno paterno che non ho mai conosciuto, che è entrato in pratica quando è cominciato tutto, nel 1917, ne proveniva dalle valli del Gran Paradiso perché Bekis ha origine francese, dall'Alta Savoia, in realtà è Bechis, si verrebbe pronunciato, e dapprima mio nonno dalle valli del Paradiso si trasferì a Torino in cerca di lavoro e poi c'era questo grosso fermento industriale in Val Bormida tra le vetrerie e queste altre neonate industrie, si trasferì come forgiatore appunto in quella che all'inizio fu la Sipe, di lì poi conobbe mia nonna che anche lei a sua volta lavorò in Ferrania e a seguito poi mio padre e mia zia, sarebbe stata poi la sorella di mio papà, mio nonno essendo un forgiatore poi è entrato proprio all'inizio nelle fasi di costruzione della nuova fabbrica che stava sorgendo, mia nonna ora non ho proprio dati certi, però deve essere subentrata subito poi dopo e credo che abbiano lavorato poi insieme, poi c'è stata la nascita della loro prima figlia, perciò mia nonna è sicuramente rimasta a casa a badare alla bimba e poi in seguito all'altro figlio che è nato, che era mio padre, lasciando appunto solo il capofamiglia in Ferrania. Quando poi è venuto a mancare mia nonna è ritornata a lavorare in fabbrica e allo stesso tempo la fabbrica ha fatto in maniera sia con il comune che con tante altre cose burocratiche di in qualche maniera di aiutarla in questa vedovanza poi molto giovane che era o un documento dove è tutto specificato anche come pratiche svolte, come tutto il dovuto di mio nonno sia stato poi, sia stato dato in maniera di quel che è giusto e giusto e poi non appena i figli sono stati in età da poter lavorare c'è stato questo altro avvicendamento. Durante questa piccola ricerca di immagini e documentazione a cui ho potuto attingere anche per cose di proprietà proprio dei miei genitori o comunque dei miei antenati, ho trovato che mio padre ad esempio era classe 1930 ed è entrato in Ferrania nel 1942, cioè a 12 anni e c'è stato fino al 1984, pochi mesi prima che subentrassi poi io, perciò ho fatto 42 anni, lo stesso periodo più o meno altrettanti 40-42 anni li ha fatti mia zia entrando molto prima però negli anni 30 perché era leggermente più anziana di mio papà. Sì, ne ricordo tantissimi di aneddoti soprattutto di quel periodo dove c'era la guerra, dove c'era la fame, tanti racconti, dove anche in qualche maniera la fabbrica stessa ha aiutato, comunque è stata un, se non una famiglia però comunque un appoggio sicuro soprattutto per chi era rimasto magari orfano come era successo a mio papà perché poi mio nonno è mancato negli anni 30, raccontava più cose in periodi quando poi finita all'epoca Ferrania è subentrata la 3M, dove si era andato in quel periodo che poi per tanti anni dopo è stato poi nominato il periodo delle vacche grasse, perché in qualche maniera capitali, nuove metodologie come già stato detto, si viveva bene, si viveva veramente bene e allora c'era anche un po' più di, seppur sempre nella professionalità, forse anche più leggerezza nel vivere la vita di fabbrica, le relazioni tra le persone, meno inquadramento, meno severità. Tutto questo io non volevo ripercorrere quelle orme, anche se loro ne sono sempre stati entusiasti di questa esperienza, ricordo sulla fine degli anni 70 che ci fu un progetto forse un po' simile a questo, dove con le neonate tv libera e locali ci fu proprio una serie di interviste a ex lavoratori, dove ricordo che molti, tra cui anche venne intervistata mia zia, parlavano tutti quanti molto con questo ricordo e di come una famiglia, questo come una famiglia a me era sempre suonato strano, perché sì d'accordo mi permetteva di mantenere una famiglia, però io tutta questa grossa relazione umana, sociale all'interno con i miei colleghi, io non l'ho mai trovata, forse perché sono entrato anche in un periodo di cambio generazionale, erano le prime assunzioni che dopo tanto tempo venivano fatte tra la fine degli anni 70 e i primi 80, i miei primi compagni di lavoro erano persone che più o meno potevano avere l'età dei miei genitori, grossi discorsi non se ne faceva di scambi proprio, perché o si parlava di caccia, ricordo, a me non piace la caccia, oppure di cose agricole, però poi non si riusciva a andare oltre questi discorsi, ecco, e allora come si dice ho trovato un po' lungo come si dice nelle relazioni proprio umane anche di semplici discorsi per passare il tempo, perché poi il tempo era veramente lungo, facendo i turni, queste cose qua, poi vabbè poi c'è stato un po' di cambio generazionale, sono arrivati ragazzi giovani e un po' le cose sono migliorate, ecco, da quel punto di vista lì. Tornando al discorso che avevo fatto prima, di quella nota stonata che fino a non molto tempo fa io percepivo di quel sentirsi tutti una famiglia all'interno dello stabilimento, ho potuto poi solo ultimamente, grazie anche a Gabriele Mina che è il curatore del progetto museale e grazie a lui al coinvolgimento in cui mi ha tirato dentro in minima parte a questo progetto di ricerca, di rivedere molti aspetti, uno su tutti è che sono entrato con consapevolezza zero di cosa volesse dire la storia di Ferragna, l'importanza che ha avuto non solo nell'industria per quello che è, ma anche per certi aspetti del mondo che a me piace tanto, che è il mondo dell'arte, che può essere la fotografia, la cinematografia e ammetto che a vent'anni quando sono entrato, seppur io abbia avuto tutti questi precedenti illustri nel senso dal punto di vista che sono partiti dagli inizi, ecco, io non l'avevo, ho scoperto solo poi approfondendo con questi piccoli compiti di ricerca che mi sono stati dati, che c'era veramente tanto, tanto da essere fieri e orgogliosi di lavorare all'interno di quello stabilimento e perciò ne viene anche poi da sé il resto del dispiacere che tutto sia finito così, l'amarezza, ecco. Vengo da essere innanzitutto nato in periferia di Cairo Montenotte, all'epoca la periferia di Cairo Montenotte era campagna, campagna molto schietta seppur c'è un chilometro e mezzo dal centro, erano i primi anni Sessanta, era ancora così, si faceva ancora il grano dietro casa come una volta proprio con tutte queste battere e così. Avevo entrambi i genitori che lavoravano perché si stavano costruendo e ampliando casa, crescevo con quello che era mio nonno materno che era in pensione, credo di essere sempre stato poi uno spirito abbastanza libero fin da ragazzino, forse anche un po' introverso, un po' solitario e l'idea di andarmi a chiudere in uno stabilimento seppur così decantato, seppur così non mi andava proprio giù, soprattutto nella fase della mia adolescenza quando si è ancora più motivati in queste ribellioni, ancora più pompati, non mi andava proprio, invece i casi della vita hanno portato a farci 25 anni perché poi nel 2007 sono stato messo in cassa integrazione dove onestamente devo dire che lo stabilimento di Ferragno è stato trattato gran bene seppur perché abbiamo fatto 7 anni di cassa integrazione e poi 3 anni di mobilità perché dopo il licenziamento ho compiuto 50 anni, ho avuto diritto ai 3 anni. Rispetto a altre condizioni di perdito del lavoro non mi posso assolutamente lamentare, poi ho sempre sperato di trovare un altro lavoro a misura sempre di quelle che sono le mie problematiche di diambulazione, di invalidità, ma non è giunto niente. Nel frattempo ho accettato tutto quello che mi è stato proposto come 2-3 anni di lavori socialmente utili presso alcuni comuni della Val Bormida dove oltretutto ho riscoperto quei lavori dove in abbozzo stavo incominciando come apprendista, subito dopo finite le scuole, il muratore, il saldatore, il tubista perché se c'è una cosa che hanno veramente castrato e mortificato le fabbriche, credo a parte forse alcune alcuni reparti o alcune professioni, sia quella che poi in caso finisca il lavoro non hai nessuna professionalità perché poi non sai fare niente. Sì magari sei al top in quella circostanza però poi nelle mani fuori in un altro tipo di lavoro, sì può essermi rimasto, cosa vuol dire, fare della qualità, però se non vengo proprio impiegato in quell'ambito lì della qualità, nei processi di qualità, devo fare riferimento ai mestieri che avevo in qualche maniera imparato da giovanissimo che in queste esperienze di lavori socialmente utili ho ripreso un po' e mi hanno fatto fare anche molti pensieri, riflessioni riguardo alla vita, che forse sì, questo stipendio sicuro voleva dire tanto perché ho sentito dire da molti, compreso anche i miei genitori, che il momento che mi hanno assunto in Ferrania per loro è stato come un terno all'otto, questo terno all'otto l'ho già sentito dire da molti altri, perché nessuno vedeva la fine di questa cosa, sembrava che cent'anni che va avanti, continuerà altre tanti, si pensava di andarci in pensione, così non è andata, vabbè, resta veramente l'amarezza perché tutto ha un fine, ci mancherebbe, però credo veramente che in base a tutta questa storia che Ferrania abbia, soprattutto riguardo al mondo della fotografia, della cinematografia, un po' meno nel medicale perché era comunque altre cose più diffuse e forse un po' meno, sì, sicuramente più utili per la salute umana, ci mancherebbe altro, ma per l'espressione artistica dove io ho sempre trovato che in valle c'è sempre stata carenza, poteva veramente nascere qualcosa di diverso nella riconversione, poteva esserci una cittadella dove potevano venire sviluppate altre cose sempre in questi ambiti, in quello che era quella storia, con insediamenti magari sicuramente volti al futuro, di quello che è la fotografia, che è la cinematografia, ma anche il fatto del museo poteva nascere lì dentro, come tante altre attività collaterali, non solo dare lavoro, ma essere anche un punto di attrazione turistica per queste cose, proprio per questa grossa storia che ha alle spalle, che io per primo mi rendo conto a malincuore, ci ho fatto poi pensieri più precisi solo ultimamente, prima, ripeto, era una buona occasione, un buono stipendio, ma tutta questa storia non la sentivo così mia come la sento ora, ecco, forse perché ho anche indirizzato i miei interessi verso queste cose qua ora, non solo di mantenimento della memoria, ma anche di espressione artistica in qualche maniera. Oggi che Ferrania non c'è più, che poi è venuto a seguito della chiusura di altre industrie che erano pilastri e sono stati anche ricchezza poi della Val Bormida, io se proprio devo fare un appunto è che da una parte ha dato, ma dall'altra ha tolto, perché sicuramente ha dato tanto, tanto, tantissimo allo sviluppo della valle, ha tolto in qualche maniera la possibilità di indirizzare altre menti, altre teste, un po' diverse da quella concezione lì di fabbrica, ad occuparsi di altre cose, esplorare altre attività, rischiando magari sicuramente, però mi rendo conto che ci sono ancora molte persone che sperano che tutto resusciti o che tutto ritorni o che ne vengano altre, ma non riescono a vedere al di là della fabbrica, delle fabbriche, questo secondo me è un po' mortificante per quello che è stato, per poi le grosse risorse che ci sono in valle, perché ci sono tantissime risorse umane, con idee, ma è tutto un po' ancora fossilizzato lì secondo me. Una cosa che non mi è piaciuta per un certo periodo è stata un po' un… io vado molto alla relazione umane, mi piace molto chiacchierare sia di cose profonde che di stupidate, mi è mancato in quel periodo dei primi anni, forse proprio per questo cambio generazionale, poter anche semplicemente chiacchierare con i miei colleghi di lavoro che non fossero i miei cotanei o comunque quelli con cui si aveva un minimo di interessi simili. E poi, beh, come tutte le grandi fabbriche c'era forse anche un po' delle cose poco sane, ecco, che poi credo che non sia dire chissà così di sconvolgente, quelle cose che vengono chiamate un po' come ruffianerie, magari per poter avere un piccolo avanzamento di carriera, per avere un posto migliore, sono cose che ci stanno, ci mancherebbe perché fanno parte dell'essere umano, ma alla lunga sono fastidiose. In una fabbrica come Ferrania sicuramente erano un po' amplificate, un po' amplificate perché c'era proprio la possibilità poi di ottenere certe cose, con dei metodi anche forse poco puliti di mettersi in evidenza, ecco, niente di che ci mancherebbe, però cose che, ripeto, alla lunga oppure nel quantitativo possono veramente autoindurti e isolarti un po' da queste cose, dire, vabbè, io mi faccio il mio, voi fate un po' cosa volete, mi pagate, sono a posto così. Siccome ho menzionato magari gli aspetti meno piacevoli che ci potevano essere stati, ma ci sono stati anche tanti momenti piacevoli per far passare questi lunghi tempi sul lavoro, e il fatto di lavorare a luci controllate permetteva di sbizzarrirsi con gli scherzi, soprattutto uno dei più gettonati era quello di usare il nastro adesivo, questo nastro adesivo ritorna nel contesto fabbrica sotto un altro punto di vista, perché a volte si diceva che, soprattutto quando poi le cose non andavano più molto bene, che la fabbrica stava in piedi anche grazie allo scotch, al nastro adesivo, perché qualunque piccola problematica che poteva esserci, si ci metteva un pezzo di scotch e tanto quanto teneva, si andava avanti. E perciò uno dei tantissimi scherzi era proprio quello di scocciare, di mettere dei tiri di scotch nelle porte, dove la gente passava tranquilla, logicamente si cercava sempre di fare lo scherzo a misura di chi si scherniva, perché mettere un pezzo di scotch all'altezza della bocca o del collo, che bello tirare, si cercava sempre di metterlo sulla fronte, all'altezza della fronte, in maniera che uno si prendesse. Erano le vittime preferite, quelli che poi si arrabbiavano di più, perché il senso poi è quello, se uno non se la prendeva… Gli ultimi periodi oramai si passava già da momenti di cassa integrazione alternata, momenti che si ritornava sul lavoro, si aspettava solo il colpo finale, tutto lì, non è stata una cosa improvvisa, è stato tutto molto in qualche maniera accompagnato, si sperava che così non fosse, ma poi in realtà non si è più rientrati. Credo che la realtà di Ferrania sia passata in qualche maniera anche piuttosto indenne, o comunque non con i toni che si sono avuti negli anni dei grandi scioperi, 60-70, per tutte le rivendicazioni che c'erano all'epoca, proprio perché Ferrania dava già in qualche maniera qualcosa in più, anche solo il fatto monetario, anche solo il fatto del tipo di lavoro non così usurante rispetto a altre fabbriche, anche se poi questo aspetto di lavorare a luce controllata fino a un certo periodo era considerato usurante, infatti c'erano dei penosi, si chiamavano penosi, si prendeva per carità una stupidata a seconda della luce che uno lavorava, luce rossa, luce verde, perché comunque io stesso ho perso gran parte della vista lavorando in queste condizioni. Poi hanno deciso che non erano più usuranti queste cose, non mi ricordo più con che stratagemma hanno tolto anche questo piccolo indennizzo, però comunque sì, lavorare in Ferrania, come ho detto prima, era un po' come vincere un terno al lotto, soprattutto se riusciva a collocare un figlio in quel periodo, perché non si pensava mai più che andasse alla fine così anche un po' malamente, anche perché se ne veniva da un'esperienza prima che, però con un minimo di lungimiranza su quello che il progresso forse ci si poteva arrivare, ecco perché tutto cambia, tutto progredisce, tecnica, tecnologia, tutto, e lì eravamo rimasti un po' effettivamente su delle tecnologie seppur fini, tutto quello che volete, ma un po' obsolete poi per quello che il mondo stava cambiando col digitale.